Campioncini, benvenuti e bentornati in questo nuovo video della Pixelmon, la vostra serie di Pokémon preferita è qua davanti a voi e innanzitutto bentornati grazie del supporto incredibile che state dando al mio mondo di Minecraft con i Pokémon. La squadra è la seguente, Tiflosional 52, Magmaran 47, Lugia che è il leggendario che abbiamo catturato nello scorso episodio è qua, livello 55, Pikachu 48, Salamence 52, Venosaura 44, campioncini, nello scorso video abbiamo catturato lui, il nostro Pokémon leggendario Lugia, il secondo Pokémon leggendario. E dato che ancora non abbiamo neanche mai cavalcato, cerchiamo di capire innanzitutto se è facile da cavalcare, non mi sembra per niente un Pokémon semplice da cavalcare, però che diamine di figata, la Pixelmon è un po' bagattina ragazzi perché è noto che vado un po' dove voglio col corpo, però vabbè, fa niente, nell'episodio di oggi faremo un potenziamento incredibile, faremo sì che avremo una squadra ufficiale per le battaglie. Quindi la prima parte di video la organizzeremo per sistemare una squadra potentissima per le prossime sfide, perché dobbiamo andare in giro a cercare le nuove palestre degli YouTuber. E mi raccomando, commentate qua sotto con qual è il vostro Pokémon leggendario preferito, come hanno fatto questi tre campioncini che hanno commentato nello scorso video. E dato che dobbiamo creare una squadra, mi vedete in questo momento, almeno analizziamo insieme un pochino la situazione, se avete un cerotto ragazzi non preoccupatevi che ho un naso chiuso in questo periodo, quindi mi aiuta a respirare. Non preoccupatevi, comunque, dato che abbiamo dei Pokémon veramente molto forti, direi che in questo momento la nostra squadra deve essere assolutamente questa qua. Il nostro starter di fiducia, Typhlosion al 52, Lugia al 55, Necrozman che lo è al 55, Pupitar Shiny al 55, Dragoniger al 50 e poi uno tra questi Pokémon. A me piacerebbe tantissimo portare con me un Pokémon come Umbra, ragazzi, perché è un Pokémon di tipo buio, che può essere molto utile durante le battaglie, però diciamo che questa squadra qui ha tante mancanze, ragazzi. Per esempio, potrebbe essere fondamentale avere un Pokémon di tipo erba, come Venosaur, che si può mega evolvere. E dato che una cosa fondamentale in questo video è quella di potenziare i nostri Pokémon al massimo per far sì che otteniamo una squadra Pokémon degna del nome stesso, dobbiamo craftare tante Pokémon, quindi mi tocca smontare un pochino questi alberi di ghicocche. Smontiamo questo qua sobrutto delle ghicocche rosse che ci serve per craftare le nostre Pokéball. Prendiamo queste qua restanti e le andiamo direttamente a cuocere campioncini, però nei commenti ci terrei molto a sapere da parte vostra se vi piacciono questi video dove vi mostro come potenzio e creo la mia prima squadra ufficiale Pokémon della serie. Mi piacerebbe molto sapere la vostra nei commenti se vi piacciono più video di avventura, più video di cattura, oppure anche vi piacciono video dove appunto costruiamo squadre. Ditemelo qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo al vostro parere e magari faccio comparire qualche vostro commento nel prossimo episodio. Comunque togliamoci tutte quante le foglie inutili che non ci servono in questo momento perché dovevamo prendere queste ghicocche rosse cotte e i pulsanti che mi sono praticamente fatto nel giro di qualche ora durante un off camera molto importante dove ho preparato tutti quanti gli item per questo episodio. In pratica possiamo craftarci 36 Pokéball che non è per niente male campioncini. Mettiamo via tutto quanto quello che in questo momento è inutile e poi mettiamo da questo lato anche la mossa lanciafiamme e anche il bone meal e l'item thunder e lo zaino. Perché campioncini? Perché ora la cosa fondamentale è innanzitutto andare a curare Necrozma che è un piccolo problemino al fatto che sia completamente distrutto. Ma non solo perché in questo episodio faremo un'evoluzione che tanti di voi mi hanno chiesto di fare nell'ultimo periodo e dato che Pupitar ragazzi ormai è arrivato a un livello 51, è shiny e abbiamo con noi le caramelle XP, Candy, XL per poterlo livellare. Oggi otterremo Tyranitar shiny. Avete capito molto bene. Infatti già possiamo imparare Hyper Beam che io quasi quasi ragazzi do al posto di Crunch. E poi dove vai Pupitar? Sei a livello 54? Ne manca solamente uno Pupitar. Però non spreco una caramella XP, Candy, XL ma utilizzo una caramella da Pupitar. Vieni con me perché voglio che tu ti evolvi in un punto preciso in questa zona qua. E ragazzi stiamo per ottenere una delle evoluzioni più leggendarie che ci sarà in questa serie. Un Tyranitar shiny. Avete capito molto 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 bene. Mamma mia che figata di Pokémon. È anche bello bello grande, bello gigante. Ma soprattutto è un Tyranitar shiny ragazzi. C'è i brividi perché sono molto affezionato a questo Pokémon. Sin da Pokémon blu perché io giocavo proprio ai Pokémon sin da Pokémon blu e averlo così è fantastico ragazzi. Ora che abbiamo questo Tyranitar sono pronto per potenziare la nostra squadra. Anche se però fermi un attimo. Abbiamo un Venusaur che ha il 44 e adesso tutti quanti intorno a livello 50. Potenziamo anche il Venusaur con questa restante caramella XP, Candy, XL. Perché comunque abbiamo fatto fare 48 livelli e poi con questa S qua magari li riusciamo a far fare un altro livello. Vediamo. No eh. Non ce la facciamo ragazzi. Peccato. Però comunque ha raggiunto il livello 49. Il che non è per niente male. E diamo tre calamere rare al nostro Dragonair. Che in realtà per livellarsi in Dragonite serve il livello 55. Lui ora però raggiunge il livello 53. Manca poco all'evoluzione finale del mio Pokémon preferito. Ma ora Dragonair torna direttamente all'interno della tua Pokéball e iniziamo a potenziare la nostra squadra. Typhlosion ormai ragazzi siamo sicuri che è perfetto. Ha tutto quanto l'occorrente. Ha delle ottime mosse. L'Ughia ragazzi non l'abbiamo ancora analizzato. Non sappiamo quale mosse ha. Di conseguenza andiamo a inserire sicuramente Aeroblast. Abbiamo Dragonrush che non è una brutta mossa. Mist è un pochino inutile. Calmamente è extra senso. Io direi facciamo che togliamo sicuramente Mist come mossa. Quindi potenziamole e giochiamoci le prime due Pokéball. E poi Ancient Power al posto di Calmamente. Peccato che qua dentro non vedo una mossa che è molto importante che si chiama Surf. Che su Lugia ragazzi è una mossa fondamentale da avere. Però vabbè fa niente. Necrozma può imparare qualcosa di nuovo. Slash ragazzi non è per niente male come mossa eh. Slash potremmo farla imparare al posto di confusione. Che è ok che ha 5 mosse in più da poter utilizzare. Ma Slash toglie di più. E in più è una mossa diversa. Perché qua abbiamo due mosse di tipo Psico. E Slash è una mossa di tipo normale. Quindi secondo me è molto meglio avere Slash con noi in squadra. Tyranitar. Oh cavolo. Oh cavolo. Ragazzi quanta roba può imparare Tyranitar. Tantissima. Ok. Calviamoci tutti quanti. E partiamo con ponderazione. Firefang è una mossa che toglie solo 65. Il che è un po' un peccato. Soprattutto se abbiamo già Hyper Beam. Che toglie 150. E però solo 5 utilizzi. Ma è comunque una mossa molto molto potente. Ed è anche abbastanza precisa. Toglie 90. Cioè ha precisione 90 su 100 ragazzi. Terremoto. È una mossa fondamentale che non possiamo togliere. La cosa che più potremmo sacrificare è Stone Edge. Però per una mossa come Firefang. Non so quanto ne valga la pena. Quindi voglio un attimino vedere. Qua se abbiamo mosse letali. All'interno di questa decisione. Però non mi sembra. Di per sé secondo me Tyraelite l'abbiamo potenziato perfettamente. Quando si è evoluto dal nostro Pupitar al Tyraelite stesso. Il nostro Dragonite. Fino a quando unita un Dragonite non si può potenziare. Venosaur. Vediamo se Venosaur ha qualcosa di nuovo per noi. Ma non mi sembra parte Takedown. Che magari al posto di qualche mosse tipo Erba. Tipo Seed Bomb. Non è per niente male avere una mossa tipo normale in più squadra. Mettiamola. Ora l'unica cosa che viene da pensare è magari provare a utilizzare queste mosse che noi abbiamo da parte. Come per esempio Dragon Pulse oppure Terremoto. Su dei Pokémon che per esempio potremmo fare imparare. Vediamo un attimino. Il nostro lanciafiamme su Tyranitar. Possiamo farlo imparare? Assolutamente sì. A sto punto io ho un bel lanciafiamme al posto di Stone Edge. Io lo faccio imparare più che volentieri ragazzi. Perché questo Tyranitar con un bel lanciafiamme è un mostro. È un Pokémon letale. E poi Dragonite ragazzi con Dragon Pulse potrebbe essere un Pokémon mostruoso. Infatti al posto di Dragon Tail io gliela faccio imparare molto 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 volentieri. Forse anche Lugia può imparare una mossa come Dragon Pulse. Al posto di Dragon Rush ci potrebbe stare in effetti. Quindi togliamo Dragon Rush che è una mossa che non mi sento molto sicuro di utilizzare in battaglia. A differenza di Dragon Pulse. E tanti di voi mi ha detto di fare imparare a Typhlosion Earthquake ragazzi. Che è veramente potente come mossa. Io a sto punto al posto di Lava Plume gliela inserisco. Così il nostro Typhlosion impara una mossa fortissima come terremoto. Quindi ora è fondamentale mettere via tutte le mosse che abbiamo. Se no solitamente io sono molto molto bravo a perdere tutto quanto quello che abbiamo all'interno dell'inventario. E cercare magari una zona dove poter sfidare Pokémon potenti. Ma neanche serve ragazzi. Ma oggi tutto quanto ce lo danno direttamente attorno a casa nostra. Che bello episodio. Mi piace un sacco comunque farmare una bella squadra potente. E Shepta il Mega anche. Boss epico. Per ora campioncino. Non abbiamo mai sfidato un boss super a livello epico. Soprattutto ora che abbiamo costruito una squadra tanto potente da poter utilizzare contro questo Sheptile. Potremmo utilizzarla. Però per essere pronti a questa battaglia. Secondo me dobbiamo andare da questo shopkeeper per comprare degli altri revitalizzanti. Perché li abbiamo completamente finiti se non mi sbaglio. Quindi dove sono i revitalizzanti in fondo? I revitalizzanti? Dove cavolo siete finiti? Aiuto? Sono spariti i revitalizzanti da questo shopkeeper. Ma dannazione. Vabbè. Li prendo direttamente dall'Energeist dove li nascondo un po' di tempo. Perché questi qua sono da utilizzare solo nei casi di vera necessità. E direi che comunque questo potenziamento lo potrebbe essere. Perché potrebbe essere un'ottima prova per una battaglia fondamentale. Anche perché questo Sheptile dovrebbe uscire a livello 85. Però secondo me ragazzi è più logico partire in questa battaglia con Lugia. Perché abbiamo con noi Aeroblust che è una mossa che è super efficace contro di lui. E lui non ci ha attaccato. Lui non ci ha attaccato ancora. Ok. Mi state dicendo che noi stiamo tankando. Abbiamo... Fermi un attimo. Ma Lugia è mostruoso ragazzi. Cioè Lugia da solo ha tankato contro un boss di livello epico. Così ragazzi. A livello 85 abbiamo catturato un Pokémon leggendario mostruoso nello scorso episodio. Però a questo punto direi andiamo all'altare di Moltres. Perché nella mesa ho notato che spawnano tanti altri tipi di boss. Quindi ero curioso anche di stare in questa zona. Per poter vedere se appunto spawnasse qualche altro boss potente. Dove poter testare tutta quanta la mia squadra. Anche perché ragazzi cavolo ne ho costruita mi sa una veramente potentissima. Quei Pokémon che abbiamo qua. Tra la Typhlosion Lugia. Che si è dimostrato fortissimo. Ma anche il nostro nuovo Pokémon Shiny. Tyranitar che è da testare anche questo. Quello Metagross. Un altro boss epico. No, non iniziare a svolazzare come quell'altro Beedrill. Qua però non vi assicuro che riusciamo a portare a casa. Infatti ragazzi. Perché notate Metagross boss è uno di quelli più potenti. È proprio uno dei boss più cattivi che ci possa essere. Quindi non vi assicuro veramente nulla. Però il nostro Tyranitar l'ha fatto un bel critico. Perché ha attaccato per primo prima Tyranitar a sto punto? Se me lo volevi shottare in questo modo. Riproviamo con Lugia. Anche se... Boh. Abbiamo solo mosse a cui Metagross è resistente. Con Lugia. Quindi potremmo puntare con la mossa che fa più danno a lui. Ma non gli facciamo nulla ragazzi. Veramente a sto punto mi conviene utilizzare Lugia. Per tankare un revive sul Typhlosion. E riprovare dopo. Quando mi elimina appunto questo mio leggendario. Riproviamo con Typhlosion ragazzi. Con lanciafiamme. No è impossibile. Ok. Tosta ragazzi. Tosta tosta tosta. Necrozma. Abbiamo mosse di tipo buio. Tipo Night Slash. Che siamo super efficaci contro questo Metagross. E infatti un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Ora. Io riutilizzo un revive sul Tyranitar. Lui ci farà fuori Necrozma. Ok. Va bene. Se me la studio per bene. Forse è fattibile. Perché se mettiamo in campo Venosaur. E intanto io utilizzo un revive su Necrozma. E poi. Venosaur. Ah. Deve rimanermi ancora un po' in vita. Venosaur. Gli utilizzo il Dragonair. Con delle pozioni curo. Necrozma tra i due assolutamente. Vado in battaglia ancora con Necrozma. Night Slash per far danno. Gli togliamo un bel po'. Non ci ha attaccato. Attacchiamo noi. Rimane in vita ancora Necrozma. Vai Necrozma. Ti prego. Non so. È impossibile. A questo punto mi conviene neanche curarlo. Però andiamo con Tyranitar noi. E adesso che ci inventiamo? Ora utilizziamo un altro revive. Sì dai facciamo ragazzi. Facciamo sta pazzia. Necrozma. Lui ce lo fa fuori. Necrozma deve tancare due attacchi ragazzi almeno. Almeno due attacchi Necrozma. Ti prego. Resisti. Uno. Ci ha eliminato all'ultimo. Ragazzi ho cercato di fare il mio meglio. Contro uno dei boss più cattivi. Ma secondo me a livello di squadra ci siamo. Abbiamo farmato un'ottima squadra per le future battaglie. Soprattutto con il nostro nuovo Pokémon Shiny potentissimo. Noi ci fermiamo qua e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.